Però chiama a me e voi, a ognuno di noi, alle nostre responsabilità, ognuno per quello che può deve impegnarsi per cercare di cambiare lo status quo perché come vedrete in questo piccolo viaggio vi rendete conto che la situazione è difficile. Il Global Discovery Index 2016, il rapporto annuale sulla schiavitù nel mondo, conta 130.000 persone ridotte in schiavitù in Italia.